si prova tutti i morning you speak english io non so con chi sa sai io fusi non è con un buco quando so che so con un buco io non so con un buco cosa hai messo nel caso e la figlia che vuoi cantare e poi la canta a due a due a due a due a due a due davvero ma guardate ragazzi guardate che fa bella bella che mi sporchi mi sporchi ragazzi ma guardate ma fiuta tanto ma vi rendete conto che mi fa ecco qua che mi sporca bella 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 cominciamo a lavorare allora siamo a Cosenza al mercato scusa signor scusa no 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 ferma Gina e basta basta adesso basta via che iniziamo a lavorare che iniziamo a lavorare guardate che mi fa guarda se guarda se ma puoi scasciare no così come sta questo è il mercato di Cosenza ragazzi allora non lo sapiamo Gina vieni a fare la brava per favore basta basta buongiorno ragazzi ogni venerdì c'è questo mercato ciao come stai? tutto a posto? tutto a posto? buongiorno come andiamo? quindi non lo sapete che c'è sul mercato ogni venerdì e allora qua noi ne rifugiamo perché c'è il De Samanè perché stiamo partendo per Toronto quindi facciamo un po' di mercato di Cosenza ti seguo sempre sempre ti compagno a Samanè ah no faccio il diretto dici al cielo che non ne seguo sempre sempre seguirli che prima cosa ci tiene in allegria poi a me mi dà forse delle persone che passano come qualcuno li mangia non si fanno intervistare che cos'è questa vergogna? secondo lei perché signor? non lo so perché ci sono persone che hanno paura dell'obiettivo ma mi caspare se tu le capi mi caspare mi caspare mi caspare signor una canzone o una poesia? fiume limpide e turchino ora ora l'altro il camicino del mio bimbo piccino la camicina del mio metto che domani glielo metto ti ho cantato una canzone non portarmi il sapore ma voglio mi faccio un applauso dammi la pasta dammi la pasta o la maglietta una maglietta una maglietta prendiamo la maglietta allora ragazzi grande grande Callomagno ragazzi grande Callomagno basta per favore basta andò signor però dici la chiamo a casa allora fiume limpide e turchino ora lavo il camicino del mio bimbo più piccino la camicia del mio metto che domani glielo metto ti ho cantato una canzone non portarmi il sapone un applauso grazie ragazzi buongiorno signora buongiorno com'è salutiamo il signor ciao 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 tu che fai bene 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 e dove sei tu? con il romano Bangladesh Bangladesh sei lavorare? lavori? si si che lavoro fai? si ma guarda abbiamo oggi scuola ok scuola buongiorno bravo 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 una canzoneggia una canzoneggia una canzoneggia andiamo alla ricerca poi poter non è morto mio figlio no 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 signora mia saluto che sei in gelo per carità per carità facciamo siamo sempre vicini basta basta per favore quante persone c'è? c'è un cinque quasi cinque mela ferma 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 cuccia ferma è cresso cane ferma signora chiamatevi ferma cani cani un ferma buongiorno signora che è stato ci conosciamo? si si alla fiera di San Giuseppe ci siamo vissi quanto tempo fa? febbraio non lo so signora che bravo alla fiera di San Giuseppe tu c'era si zio ora chi è andato? sono a crescere San Giuseppe dammi una testa dammi una testa Gina ma per favore arrapeciano Gina vuole il fidanzato giustamente lei che fa? in che senso? lavora? no al momento di qua di qua che bello che bello guarda la testa guarda 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 la testa te piglia la testa che bene è in fondo alla busta è in fondo alla busta ma che sta morendo mi 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 dici come fai l'umate il bambino non l'ha visto è morto cioè il bambino allora signora questa è l'angromeda sposata copri bene grazie signora grazie a voi grazie a voi una chita una chita guarda che chita bene chita che tu mangi chita c'è uno scontro guarda io non c'è Spagna guarda non c'è Spagnino tu manchi chita 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 buongiorno sarebbe ma mi è fermata ancora se no camminiamo su nuovo camminare vediamo se loro vanno al cinema andate al cinema poi al cinema andate al cinema 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 no? andromeda cinema no 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 non c'è andato al cinema cinema? grande schermo cinema non c'è vai al cinema si oh angiomero questa è la tessera capisce vip sai cosa significa vip non lo so vip lo sai vip vip no vip 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 si sente fidanzato? no mia figlia tua figlia ma davvero complimenti ciao e basta ancora ragazze ma guarda una scena d'amore che so ma ci vuoi carcare e basta gina ma non vai alla sporca c'uolo boccarcata nel senso che vuoi carcata gina e basta si arrapesce gina Mi chiamo Monica, buongiorno, guarda che bello signore, signore Benedicca, quanti bambini avevi una cuacina, una camionata? Io due ce l'ho già, lei è la terza, ecco qua, le signore di una ragazza, venite, venite, siete sorelle? No, no, amiche, amiche, ma qua un cielo bambino, penso che l'abbia perso, come si chiamano? Gabriel, Gabriel, Jennifer, Jennifer, quindi lei è come? Qualcun bambino? Tre. Lei è la signora? Due. E la signora invece? Io, è grande la mia, è sposata e c'è due bambini. Ma siete tutti zia? No, no, no. No, siete, che meraviglioso, allora mandati i saluti per questa Santa Fe, che festa c'è ancora? Avete parente a Toronto? Io sì, cugine. Bene, a casa. Io andrei. Andrei, ciao, 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 ciao. Dove sono i vostri parenti? A Toronto. Proprio a Toronto, Toronto? Sì, sì. Ma dici un saluto, noi siamo... Saluto a miei cugini, a tutti quanti. Di dove, di proprio a Toronto, Toronto? Sì, sì, Toronto. Hotel Monte Carlo Inn, va anche in Toronto? No, no. Sì, sai quando regali che mi hai dato tu quando facevi così di regali? Io ho vinto due a Voticatine, due volte. Quanti anni fa? Eh, sono, non lo so, sono sette anni. Sì, sette anni. Sì. A mia paderezza. Quando c'era Franca al Giro. Sì, sì, grande, grande, grande pesamonica. Mi ricordo. Vabbè, io amo nenne, io lo faccio come ci porta la signora, che non si può portare. Voi lo faccio? No, no. Non ne voglio lo faccio, grazie. Ah, che bella musica, però. Buongiorno, e fate, comprate dei mercatini che si compra bene. Come? No, che paghi i tassi. Vieni a casa, vieni a casa. Bella, però è bella scelta, bella roba. Buongiorno. Chi ti fa pagare i tassi? Eh, tu stai lavorando, cioè, aiutate i mercatini, aiutate, aiutate i mercatini, aiutate che facciamo un po' di cose, o no? Lei che compra stamattina? Non lo so. Ma secondo lei che cosa vorrebbe comprare? Eh, non lo so, adesso si può. Una coperta, una moteta. Può essere, può essere. Adesso comincia il freddo. Eh, ma di là, ancora c'è gente di là. Gli amici là, se la fiammo nenne i cavi, vieni? Girami i cavi, vieni? Ma perché si può scegliere la rieta? Ti sape se mi... Vieni, non veni, non buttò. Eh, io non veni. Poi, se no, un po' ne copiano pure chissà, ne copiano tutto. Eh, va bene, non va niente, guarda. C'è spazio per tutto, ragazzi. Allora, dopo, si vieni, vieni vicino. Chi ti ha greciato la gatta? Dopo. Ma non... Sì, stavolta mi sono... Nessunno mi sono baciato con Dracolo. E mai capace. Gira! E' contente quando ci vede, vieni? Eh... Buongiorno. Facciamo tutti i mercatini, facciamo i viti una poca così, agendo almeno... Facciamo un po' di cose... Nel mio cane, non? buongiorno c'è un po di... è rimasta un pinta è rimasta... è rimasta... deve partire il certificato da psico-psychiatra qua è il coso, chi ne sapeva è del mio... è piano piano, piano piano, c'è ricovero in mattina diamo una mano, diamo una mano alla signora, facciamo la esce ragazzi, hai ragione, facciamo una cosa... vai, vai... ragazzi, facciamo pure... ti diamo una mano sul sociale, vai, vai, vai... buono, 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 ecco, vai... un po' di... 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 aiutiamolo tutto questo... eh, oh no... certo... un po' di... guarda qui... che ti diamo una bella bottiglia di succo, mo... buongiorno... come sta? di dove sei? guarda che sta baciando... ma deve andare in ospedale... fatela passare... è nato, zio... eh... purtroppo povera... complimenti... ma non sei italiano? no... ah, dove sei? da Bulgaria... ah, Bulgaria, sta lavorando... bravo, è la Bulgaria... eh... quindi bravo, come si chiama la bambina? Giorca... Giorca... eh... dai, vieni qua... dai, ci sottotitoli di succo a Giorca... Giorca qua, Giorca qua, guarda... ti piace il pomodoro? si vede, benedica che ti piace... ti piace il pomodoro? che si sentiva... non puoi andare la volta... si sentiva del supermatorio... ecco qua, sbizzano... dopo, si ti ammazzano con noi... ti ammazzano dopo... e sua moglie è quella? si... vieni qua, vieni... signora, guarda... questo è il pomodoro... eh, televisione... no, guarda... oh, signora mia, televisione... non è che non... non è che non è la televisione... vieni qua, sbizzano, vieni qua... questo qua, vieni... ah, adesso è la nonna... mi faccio vedere da che dici tu così... aiuto... aspetta, aspetta... che povera... sono battuta, aspetta... dici, no, dici la televisione... aiuto... ma se ti esito a mucce, signora... affacciate una po'... affacciate alla finestra... amore mio... vieni, esce... te... la salsa della nonna... vieni qua... la salsa della nonna... la figlia della sì... già una figlia c'è... non ne so... 31 anni io... ah... ma come sei bella se sei... 31 anni... la figlia della sì... ora stai in apigliare 9... eh, devo fare altre cose quindi... questa notte ce l'ha portata alla sì... no, 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 io l'ho lasciata alle 8... alle 8 ce l'ha la sua... eh... sì, sì... tieni qua... ah, no, c'è la madre lì... c'è la... c'è la madre... 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 a Bulgaria... io ti devo lasciare che la vuoi scappare... già... sei stata la tua figlia, già... vieni, te... vieni... regali la... questo qui... questo è il pomodoro noce... vieni... ah, grazie... grazie... viva la Cosenza... buon lavoro... grazie... eh, ma... mi fanno offerta... però... però fate magri... fateci... eh... eh... non mangiare troppo che ti fa male... non dire così... non dire così... non dire così... ah, io si tap... buongiorno... come sta... come vanno le cose... secondo lei... potrebbero andare meglio... oppure... è logico... secondo lei... come vanno le cose signora... potrebbero andare meglio... o per gli chiusi siamo arrivati... no... siamo arrivati... siamo arrivati... siamo arrivati... siamo arrivati... esatto... di dove siete voi? di Donnice... ci siamo già avesse a Donnice... eh no... è normale... con lei si... con lei no? no... lei che fa nella... la casalinga... la casalinga... ma poi chi ne ha vinto... sul concorso chi ne ha vinto? quello dei dolci... ah... eh... chi le ha vinto? tutti... i tordilli... tutti... no... i tordilli... no... i tordilli... guarda... 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 eh... tu ne puoi inguattrare... e noi ne puoi inguattrare... oi... e che facciamo? eh... i tordilli... lei è la guardia giurata... no... ha un po' sta... no... ha ragione... eh... ma non ti preoccupare... sei sempre... sei sempre nella... oh... hai una ragione... vieni... se tu non guardi... se tu non guardi... eh... eh... ragazzi... facciamo un po' di economia... no? buongiorno signor... come state? io sto benissimo... grazie... tu che vieni anche per le specchie... articolo per... per i giovani... per i giovani... anche per le specchie... articolo per i giovani... per i giovani... sì sì... dove siete voi? di Rossano... no no... di Taverna... ah di Taverna... la Verna di Montalto sul... verremo di nuovo... al mercatino della merceria... vendiamo di tutto... merletti... macramè... filo... caramè? no... macramè... un francese... ussupiglialo... ussupiglialo... ussapiglialo... è innamorata... Gina... guarda Gina... guarda Gina... Gina... Gina è innamorata... Gina... Gina... Gina sei un po' porcellina... però eh... come un maschio dice una... sgraziata... avete un cane maschio... stiamo cercando uno... per... 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 una viscigliata... ma guarda che... la facciamo... la facciamo... fare un amore... con una cagnolina... della sua razza... giusto... se bisogna... c'è un alano... cavolo... ma un alano... no... l'alano... si mangia... si mangia l'alano... ma hai detto... capito che... hai detto... guarda... fatti... come si dice... i pelini di ricchi... ti ha fatto un busco... squirt squirt... eh... diamone... ma... ci lasciamo... per quando andiamo accolando... per una settimana... che ti dispiace... sento la manganza... e poi... tu ci scrivi... su whatsapp... su facebook... su facebook... su facebook... eh... facebook... vieni a casa... segua Nando... segua... mannaggia la miseria... buongiorno signor... ah... che bella casa... chiede... lo bacino... era tanto tempo... che ti vedeva... ma... tu mi canuccia mia... ecco... buona... è mia figlia... ma come è bella... mia figlia... che cosa ha comprato... guarda... ecco... per Ginetta questa va benissimo... come sta... va bene... che belli occhi... eh... è bella da buona... è bella da buona... si... sposata sicuramente... mio marito è in giro... ah... eh... non te la stessa su però... eh... con questi occhi... i figli ne avetevi? si... bravo... uno... bravo... uno... eh... no signor... questo si chiama... un nero bacino... questo era... a Bagnarola... a Bagnarola ragazzi... questi sono i termini... no... a Bagnarola... ma ci mettono i panni... eh... ma ci mettono i panni... tu... io ci mettono i panni... ma... ma... d'accordo... grazie signore... grazie... 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 che cosa abbiamo... come abbiamo fatto tutto... non abbiamo finito... no... diamogli le cose dal cinema... così... vanno... vanno con la maretta al cinema... andate al cinema... eh... andonio... si è messi i pantaloni lunghi... eh... ecco qua... ci porto il bimbo... andromeda... Carlo Magno... si chiama... si chiama... si chiama... si chiama... si chiama... si chiama... di Zubbano... grazie... 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 ecco... volevo dare una... una tessera anche al signore... lei va al cinema... no... e non c'è un ristorante... che va al cinema... eh... ma c'è la televisione... non ci siamo più... eh... buongiorno ragazzi... che c'è qua... c'è un istituto... che c'è... ah... so dove andavo... ando... ecco.... siamo arrivati... a te... ho visto... dopo tant' гораздо tempo... ma... ando... ho trovato... da dove siete voi... guarda sempre la televisione... dici a cielo... sempre... mi scegola... guarda... io sono Laurignano... quand'è il mercato a Laurignano? così cerchiamo di fare... a un mercato Laurignano non avevamo... a un solo supermercato... giericato... del bangladesh con lui viene salutate ragazzi salutate queste sono ragazzi che studiano si aspetta che studiate voi io italiana lingua italiana dopo richiesto italiano lui pure buongiorno già 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 ragazze studiate vera come e basta ginetto dobbiamo trovare dobbiamo trovare la ginetta una un compagno torna a casa ecco ma ho i che teni uva qual è il passivo mercato buongiorno buongiorno a voi ok ok si chi ne so a 6 6 come una comuna franco no ieri l'ho visto buongiorno signor che domandate di bella che bella che bella come le fermate quando abbiamo quando abbiamo probabilmente mia moci come una cosa c'è come una cosa che se buona si mi sa mi chiamé che se mi chiamé che se me e non lo so le portano a la moglie ma moglie ma come da se fammi be fammi be e pigliate melo cosa in un microfono di fammi beviene caro è giovaneggio ma è giovaneggio Giovate melo perché hai come una maglietta. È bellissima. Vieni signora, vieni. Questa me la prendiamo. Signora. Sono ammucciato, capisci? Cacciano certe rosette che cacciano. Che meraviglia. Guarda che rosette che cacciano. Che meraviglia. Se mai la pizza qua facciamo. Ah, qua la pizza. Facciamo la pizza. E allora c'è quella pizza. E' tutta un'altra cosa. Che meraviglia. Quanto custa? Che cacciano? Tre euro. Tre euro. Lei le vende? No, no, che vende? Sto comprando. Le sto acquistando. Le sto acquistando. La pizza è come la fai? Quando avevamo se la facciamo? Un minuto e mezzo. Un minuto e mezzo. Allora poi li prendiamo d'acquario. La faccio, si fa con la farina, il lievito e l'acqua. È giusto. Ma lei fa proprio la pasta. Sì, faccio la pasta, è certo. Sono una calabrese. Di dove è lei? Di trenta. Di trenta. In caso alle trenta. No, di trenta o trentino. Sì, è di trenta che è capicino. E tutto il trentino ha detto. È lupo, lupo ragazzi. Figliate se casserò, la sefressora, sova. Aiutiamo i mercatini. Signora, lei che vuole salutare? C'è qualche amica a Toronto? Qualche parente? No, saluto tutti gli amici. Lei è la signora? Io a New York. A New York ci si chiama il prossimo febbraio o marzo. Buona giornata. Grazie signore, grazie. Allora, buona pizza. Grazie. Buona pizza. Intanto ragazzi, cominciamo per vedere un po' che cosa compra la gente nei mercatini. Quasi niente. Quasi niente. Si fa una camminata. Ecco, come voi che combattete? Voi ci seguite? Ho cambiato. Ho cambiato. Come no? Ti serve? Pino? Che i signori ti fanno neanche? Ragazzi, almeno concediamo sull'amicizia. Allora, grazie. Allora, allora. Il dipetaggio. Il dipetaggio certo. Allora ragazzi, ci vediamo domani alle 14.20. Sempre sulle canone di giornata. Allora, grazie a tutti.